Musica Buongiorno a tutti e bentornati nella nostra classe Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video Ebbene 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 è uscita finalmente la patch note la 1.1.0 di Anthem che doveva introdurre parecchie novità e in realtà la novità più importante è stata introdotta dalla nuova roccaforte The Sunken che è disponibile per tutti i giocatori che hanno completato la trama principale Sono state aggiunte inoltre due possibilità anzi in realtà sono tre le possibilità La prima è che d'ora in avanti si possono lanciare le missioni e i contratti soprattutto dall'inizio della schermata e non per forza andare a cercarli nelle singole schede quando si è in Fortarsis Quindi nella zona di lancio e soprattutto si possono lanciare le missioni o nuove missioni quando si finisce quando se ne finisce una senza aver per forza tornare a Fortarsis o alla zona di lancio Queste sono due possibilità veramente veramente ottime perché tolgono praticamente caricamenti il che rende il gioco molto molto più fruibile e decisamente molto più leggero L'altra possibilità aggiunta è che questa invece è una cosa parecchio inaspettata e che d'ora in avanti si può cambiare durante le missioni e non per forza dover andare in Fortarsis o alla zona di lancio Quindi si può accedere direttamente alla propria forgia e cambiare il proprio equipaggiamento in qualsiasi cosa si voglia fare Missioni, Fortezze e gioco libero Niente male Come note generali invece sono state aggiunte delle nuove diciture agli oggetti che vanno a spiegare molto meglio come funzionano le combo, i detonatori e l'abilità di innesco E inoltre sono stati aggiunti finalmente grazie agli dei i componenti masterwork universali Quindi sono stati aggiunti dei bellissimi componenti Componenti che ovviamente vanno ad introdurre chiaramente nuovi stili di gioco Non credo se ne siano stati aggiunti tanti, non c'è un elenco in realtà di questi componenti aggiunti li dovremo scoprire Ma sono stati però aggiunti dei depositi specializzati per tutte le armi Cioè per tutte le munizioni di tutte le armi che vanno ad aumentare il loro danno Quindi sia per le armi da cecchino, per gli autocannon e le pistole, per pistole pesanti e lanciagranate Sono stati aggiunti dei caricatori che danno il 30% di danno di base in più E in più aumentano il caricatore del fucile Per quanto riguarda invece tutto quello che riguarda le armi masterwork Sono state praticamente modificate, baffate tutte O meglio tutte, una buona parte In questo caso sono state baffate praticamente due pistole Che sono la Fulcrum e la Trajector Dal 200 al 400% la seconda e dal 110 al 135% il suo bonus la Fulcrum Per quanto invece riguarda il Death From Above Quindi il fucile che bisogna stare praticamente in aria Per fare del danno siamo passati dal 65 al 235% di bonus Sniper Rifle invece il Vivern il bonus è dal 40 al 185% Per quanto riguarda invece gli Shotgun è stato modificato solo il Vengance Che adesso è stato aumentato il suo bonus del 50% di stack per 3 volte E può raggiungere l'83,33% di stack per 3 volte Quindi diciamo che il danno che va a proccare e ad aumentare è stato nettamente maggiorato Mentre per quanto riguarda gli Auto Cannon sono il Mauler e il Cloud Burst Il Mauler in questo caso ha avuto una maggiorazione lieve dal 200 al 225% di bonus Mentre per quanto riguarda il Cloud Burst Anche qua il bonus è stato aumentato dal 10% di impilamento per 10 volte Impilamento scusatemi ma è il per quindi 10 per 10 era prima Adesso è 16 per 10 il suo bonus attuale che può raggiungere Queste sono le armi che sono state modificate E adesso andiamo a vedere invece per quello che riguarda i Javelin e i loro cambiamenti Il Colosso, il Colosso gli sono state modificate due bonus di due abilità Il Giudizio Finale e il Pugno del Crogiolo Per Giudizio Finale è stato aumentato il bonus dal 35 al 55% Mentre il Pugno del Crogiolo dal 12% per 10 stack al 24% per 10 stack Quindi è raddoppiato il Pugno del Crogiolo lanciafiamme Per quanto riguarda invece l'Intercettore La Venom Bomb è stata aumentato il suo bonus dal 100% al 202,5% E invece la sua Glaive dal 60 al 110% Mentre le Cluster Mine che praticamente nessuno usa perché sono totalmente inutili Dal 60% al 110% Qua anche se le avessero aumentate al 1000% è un'abilità talmente inutile Che potevano tranquillamente reworkarla Avrebbero fatto una cosa migliore Il Guardiano, la Frost Granade e il Pulse Blast sono state modificate La Frost Granade gli è stato aumentato il bonus dal 235 al 270% Mentre il Pulse Blast che devo dire è già un'ottima abilità di per sé Visto che rompe gli scudi Il bonus è stato aumentato soltanto del 10% Quindi si passa dal 210 al 220% Infine l'ultimo non ultimo il Tempesta Il Lightning Strike è stato maggiorato dal 60 al 165% E il Frost Shard dal 125 al 250% Altri cambiamenti che secondo me non sono decisamente belli Avrei preferito che non li avessero inseriti in realtà E cioè il fatto che adesso i proiettili dei giocatori Quindi se io sparo alle spalle di un altro Javelin Adesso i proiettili attraversano quel Javelin stesso Questa secondo me è veramente pessima Anzi dovevano mettere secondo me il fatto che venisse danneggiato il Javelin A cui stavamo sparando nella schiena E sinceramente potevano evitarsela Però immagino che i bimbi minchia si lamentassero di questa bellissima cosa Per quanto riguarda invece il mortaio del Firewall del Colosso Quindi quando lancia il muro di fuoco Adesso dovrebbe essere molto più agevole e affidabile l'effetto che produce Sia quando colpisce direttamente i nemici Sia sulle superfici inclinate o vicino a dei muri Sono state modificate alcuni degli effetti di stato e delle combo Questi invece sono devo dire degli ottimi bug fix Non sono neanche bug fix ma sono delle aggiustatine che fanno al gioco In questo caso per quanto riguarda il congelamento dei nemici Adesso l'effetto è praticamente istantaneo Mentre prima passava qualche secondo Uno o due secondi prima che si vedesse l'effetto sul nemico Questo per dare una migliore leggibilità all'effetto che si fa E inoltre se un giocatore applica un qualsiasi effetto di stato Quindi io applico del fuoco E un mio compagno applica del fuoco a sua volta ma ha un danno maggiore L'effetto del fuoco non si va diciamo a Il secondo effetto del fuoco non va a scomparire Ma l'effetto primario che ha il mob avversario viene aumentato Quindi il danno viene aumentato a quello che gli è arrivato successivamente più alto Quindi diciamo che in questo caso adesso utilizzare Una granata fuoco di un colosso E magari arriva dietro un guardiano con effetto fuoco Con una granata di sicuramente superiore Come danno a quella del colosso L'effetto che si avrà è che Il danno 100 del colosso Il danno 200 o 150 del guardiano Non si andranno a sommare Ma si passerà dal danno 100 al danno 150 Quindi si avrà quello scarto di danno in più E si avrà ovviamente più danni sul mob Spero di essere stato abbastanza chiaro Non credo ma ci spero per voi L'ultima cosa che invece ora hanno messo Che secondo me è molto figa Soprattutto per quanto riguarda Giocatori che utilizzano parecchio le combo E che magari mettono status proprio per farle proccare ai propri amici È che adesso se noi mettiamo un effetto di stato sui mob Quindi lanciamo una granata O siamo uno storm E utilizziamo un determinato status Su tot nemici Quando vengono colpiti per esempio dal colosso in salto col pugno Si vede la scritta combo alzarsi dalla testa dei nemici stessi Quindi si sa che si è fatto proccare una combo ai propri compagni Questa cosa in realtà è molto utile Soprattutto per quanto riguarda chi utilizza il guardiano Perché il guardiano vive sull'effetto delle combo Proprio letteralmente vive sulle combo E molte volte non sappiamo Almeno nella versione precedente a questa Non si sapeva esattamente se quel nemico in fiamme O quel nemico congelato Aveva già subito l'effetto combo E quindi noi non potevamo farglielo riproccare istantaneamente Quindi potevamo sprecare le nostre abilità Attualmente invece questa cosa va a parare E a togliere questi dubbi Ottima aggiunta Bene non ho ovviamente fatto la lista dei bug fix Questo perché vi lascio leggere a voi direttamente Nella patch note che vi lascio qui sotto dal sito ufficiale Questo perché è abbastanza lunghina In realtà neanche più di tanto Ma sono state risolte Tutti quei problemi che riguardavano le creature Fulmini ambientali Effetti vari ed eventuali Che in gioco davano dei problemi Sono state risolte anche Per quanto riguarda invece Gli obiettivi delle sfide Quindi per ricevere le chiavi Per esempio quando si doveva fare Le sei missioni In gioco libero Si doveva per forza uscire dopo tre Perché se no non venivano registrate Ebbene sono stati risolti Sono stati risolti anche dei problemi Direttamente per PlayStation 4 Per quanto riguardava Dei trofei E dei problemi di respawn O il fatto che per esempio I giocatori venivano rimandati a Fortarsis Con questo è tutto Noi ci vediamo La prossima volta Spero al più presto possibile Anche perché questa patch in teoria Doveva aggiungere le gilde e le leatherboard Invece non l'ha fatta Ha aggiunto praticamente solo ed esclusivamente La nuova roccaforte Bene ripeto con questo è tutto Noi ci vediamo la prossima volta GG a tutti quanti Ciao a tutti Grazie